Ciao, come state? Sono Ferran Forcada, fondatore e amministratore delegato di Ivital. Oggi vi parlo di uno dei nostri prodotti. Spiegherò a cosa serve, quali sono i suoi principi attivi e quali benefici si possono ottenere usandolo. Il prodotto è la nostra vitamina B12, metilcobalamina 1000 microgrammi. La vitamina B12 è soprannominata la vitamina dell'energia e il nostro corpo ne ha bisogno per molte funzioni vitali, come la produzione di energia, la formazione del sangue e la sintesi del DNA. La vitamina B12 è una vitamina speciale, non solo perché è la più grande e la più complessa di tutte le vitamine, ma anche perché contiene uno speciale oligoelemento chimico, il cobalto. Il cobalto è essenziale per la formazione dei globuli rossi, la produzione dell'ormone tiroxina, la stimolazione della produzione di enzimi e la riparazione della mielina, che protegge le cellule nervose. La vitamina B12 vi aiuterà a aumentare la formazione di globuli rossi nel sangue, migliorare il funzionamento del sistema nervoso, rafforzare il sistema immunitario, migliorare l'energia, la concentrazione e la memoria, assimilare ferro e carboidrati e metabolizzare i grassi, sintetizzare la melatonina, riducendo i problemi di insonnia. La nostra vitamina B12 è prodotta sotto forma di metilcobalamina, che è più naturale e meglio assorbita e assimilata della cianocobalamina, in quanto è la stessa forma in cui la vitamina B12 si trova nel nostro organismo. Offriamo 200 compresse, per una scorta di più di 6 mesi di trattamento. Inoltre, il nostro prodotto è al 100% vegano, senza glutine, senza lattosio, senza stearato di magnesio, senza conservanti e coloranti, e privo di ingredienti geneticamente modificati. I prodotti Evital sono fabbricati in Europa. Produciamo le nostre capsule vegetali, capsule soft gel e le nostre compresse, in conformità con tutte le norme e i regolamenti di produzione europei. Siamo certificati ISO 22000 e GMP, Good Manufacturing Practice, e utilizziamo solo ingredienti attivi di alta qualità, che funzionano bene. Grazie mille per la fiducia in Evital. La vostra salute viene prima di tutto.